L'amministrazione maschalese ha stilato un cronoprogramma di interventi di manutenzione e di realizzazione nel breve periodo di opere pubbliche nel territorio comunale. Fra questa è la fruizione del cortile del plesso di Piazza Dante dell'Istituto Comprensivo Mascali. E' da anni che non poteva essere utilizzare il cortile interno alle scuole elementari di Piazza Dante di Mascali Centro. E pertanto questa amministrazione sia lo scorso anno che ha fatto degli interventi nei frontalini esterni e ha evitato perché ogni anno accadeva che delle parti dei frontalini andavano a cadere all'esterno e dovevano intervenire i pompieri. Pertanto l'anno scorso in modo urgente a dicembre, tra dicembre e gennaio, furono realizzate i lavori per i frontalini esterni. Nel frattempo è stata organizzata con l'ufficio tecnico la manutenzione e la sistemazione di parte dei frontalini interni in modo da poter usufruire le scuole del cortile interno, soprattutto per le scuole materne. Questo lavoro consiste in circa 28 mila euro e coinvolgerà anche una parte dell'esterno, ma l'obiettivo è la fruizione dei locali per interno. Nel futuro stiamo cercando di organizzare altri lavori di manutenzione che hanno necessità alle scuole perché è da decenni che sono trascurate e pertanto in base alle disponibilità di bilancio potremmo sistemare tutte le serande esterne, parte delle finestre, migliorare la solubilità di parte delle stanze, cose che stiamo facendo in parte anche in questi giorni. E pertanto l'attenzione alle scuole è importantissima. Tra i lavori che stiamo realizzando anche in questo periodo, che sono diversi, c'è quello di finire, di completare i lavori per Mondargano, per una parte di Mondargano in modo da non avere più il problema che ci sono delle abitazioni che soffrono la carenza d'acqua. E pertanto stiamo completando la parte della linea elettrica, già le pompe ci sono e verranno messe in funzione per evitare altri disagi. Nel frattempo stiamo anche realizzando diversi lavori come in via presa che voi già avete ripreso l'altro giorno. Ci sono nelle case popolari delle manutenzioni perché ci sono delle problematiche in modo da evitare lo stato di pericolo. E nel frattempo il campo sportivo stiamo per completare parte di opere che sono necessarie per dare una miglior fruizione. Ma già abbiamo in programma la sistemazione sempre nel campo sportivo per quanto riguarda i bagni per il pubblico e un'altra parte di sistemazione dello stesso campo. Questo permetterà di usufruirne al 100%. Questo non significa che sono esauriti quelli che sono i problemi del nostro territorio perché sono decine. Ma abbiamo iniziato da una parte consistente, scegliendo delle problematiche più urgenti. Stiamo lavorando per cercare di valorizzare altri spazi all'interno del nostro territorio in modo da poterne usufruire. Speriamo nei prossimi mesi che vengano viste anche le opere più importanti perché siamo in attesa di poter attivare il CUC che è il centro unico di committenza che ci consentirà di appaltare per esempio la via Vespucci e altre opere importanti come il centro di stoccaggio per attivare la differenziata che verrà comunque attivata in parte ma fin quando poi non verrà appaltato tutto il sistema non andrà al 100%. Grazie.